Per me la musica è tutto. E allora se è proprio vero, perché non me lo giuri? Ma te l'ho giurato trenta volte, amore mio. Ora piuttosto, pensiamo seriamente a tuo padre. Sei proprio sicuro che... Sicurissimo, Valeria. E il torchio è uno scherzo. Vuoi aiutarmi? Sì. Che cosa dobbiamo fare? Senti, hai fiducia nella mia furberia? Io no. Ah. Ma ho fiducia nel tuo cuore. Io quando vedo una bella donna, me l'orecchio, sento le campane. D'ambo, dammi, dammi. E non si una femmina, tu si una ceste rosa, si un ugarista e fravala di rosa, gli ursi della giadice, canderra si una stella, che si una scarda e femmina, si troppa bella, bella in i zanzi. Bravo, bravo, bravo. Buona, buona, buona. Totò, terzo uomo. Lunedì alle 20.30 su Italia 1. Wrangler Replica Model Made in the USA Se fumo e cattivi odori guastano l'atmosfera, difenditi con Cenere Magica, in bustina emanatore, o direttamente nel portacenere. E magicamente... Cenere Magica Bayar Bromagic La carta, guardala bene. Mettila nel mazzo. E' questa.